Il PD compatto, cosa che non si vedeva da non so quando, ha cominciato la battaglia per la nuova legge elettorale. Si ritorna a combattere per il proporzionale, bellissimo, proprio la democrazia al suo massimo. Però se si vuole il proporzionale bisogna accettare l'inciucio che è la sua conseguenza naturale, perché di partiti non abbiamo due, ne abbiamo anche soltanto 15-20 solo a sinistra. E oggi non siamo neanche più un paese bipolare, ma tripolare, destra-sinistra e 5 stelle, non so come definirlo. Quindi è inevitabile che alle elezioni si arriverà con 4.000 partiti, almeno due delle principali forze politiche dovranno governare insieme. Allora io vi chiedo, partendo dai risultati delle ultime elezioni, quali sono le due forze che voi vorreste governare insieme e con quali compromessi l'una e l'altra. Fatemi sapere cosa ne pensate.